Il risultato dell'edizione 2012 di Comuni Ricicloni è positivo per il Comune di Pordenone. Tra i capoluoghi segnalati, Pordenone rimane per il secondo anno consecutivo in vetta alla classifica e proprio per questo l'assessore all'ambiente Nicola Conficoni ha ritirato nei giorni scorsi a Roma il riconoscimento di lega ambiente che premia i comuni che si distinguono per alte percentuali di raccolta differenziata i cosiddetti ricicloni. Si tratta di un riconoscimento importante, quello che ci ha conferito lega ambiente che peraltro non giunge inaspettato perché per noi è una conferma, è una conferma gradita, è una conferma significativa che riconosce come Pordenone abbia fatto un salto di qualità davvero significativo sul campo della gestione dei rifiuti. Essere il Comune capoluogo di provincia con la percentuale di raccolta differenziata più elevata è una soddisfazione per tutti i cittadini che hanno collaborato all'iniziativa ma anche per i tecnici comunali, per gli operatori di GEA, per tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo progetto che nasce quattro anni fa. La nostra intenzione è comunque di continuare a migliorare perché non ci sentiamo arrivati e proprio per questo motivo da quest'anno il rifiuto umido viene conferito alla Bioman di Maniago in modo che può essere valorizzato energeticamente e che c'è sia una riduzione del costo dello smaltimento. Altre iniziative in programma sul fronte della prevenzione e della sensibilizzazione sono l'assunzione da parte di GEA di due ispettori ambientali e la spedizione a tutte le famiglie di un riciclabolario.